Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, oggi andiamo a parlare un attimino del 2Player Starter 7 Sentite come sono britici, ho voglia te le mazzate che mi vedevano da prima che io capisca una pronuncia Però andiamo a parlare del Starter Kit, perché? Perché? Mo ci arriviamo, prima di iniziare come sempre ragazzi vi iscrivetevi al nostro canale E per rimanere sempre a giocare del mondo di Yugi, mi raccomando ragazzi è importantissimo L'iscrizione ci aiuta veramente tantissimo, grazie mille e speriamo vivamente, se fosse possibile, grazie a voi, di arrivare ai 4300 entro ottobre Non credo sia fattibile, però proviamo, proviamo Allora, parliamo appunto dei due Starter che usciranno purtroppo a gennaio, perché dovevano uscire all'ottobre No, quindi hanno deciso di posticiparli a gennaio per l'anno nuovo Perché andiamo a parlare di questi mazzi? Perché mi è venuto un serio dubbio che in realtà è giustificato e neanche troppo Allora, qual è il dubbio? L'altro giorno è stato rivelato il libricino delle re, più o meno il libricino delle regole dell'appunto mazzo E come possiamo vedere troviamo un, adesso un pochettino, un quanto approssimativo, diciamo Esempio di una, credo di una battle, vediamo il trattato di Pietro che è in posizione di difesa molto probabilmente Qui si sta spiegando la battle e da qui mi è venuto il dubbio Ma questi Starter, questo Starter Set, sarà veramente utile per capire il funzionamento delle regole? Allora, ovviamente il dubbio non viene sulle carte che ci saranno Perché al momento già col fatto che c'è Zeus da prende Poi hanno messo a... in realtà non capisco bene Eldling Cioè come va a porsi in questi mazzi Però va benissimo, va benissimo anche lui Visas, Primeheart e tutto il resto Quindi sul contenuto delle carte niente da dire Io ve lo consiglio sempre E come sempre, fantastico, sono in descrizione con il link affiliato Passandoci attraverso i video del canale Questi qua sono ovviamente per il contenuto delle carte molto consigliati Poi siamo andati, sono andato a leggere ovviamente qui Che dice, allora, due mazzi differenti per giocare da solo in famiglia Con un libricino delle regole, stile fumetto più o meno, comic book Da 64 pagine che spiega il regolamento Dal pescare la prima carta, le vocazioni, l'evocazione all'ex, la battaglia ecc Eccetera 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 E fondamentalmente noi ci siamo subito andati a A pensare al fatto che Il gioco è un po' complicato Quindi questo book dovrebbe Spiegare delle cose abbastanza particolari Già come il costo, no? Molto spesso si apprende solo giocando Perché uno non Non sa che ci sono due punti Punta e virgola, succedono delle robe E quindi, ok Però il fatto che qui dice È perfetto per i nuovi giocatori Quindi molto probabilmente Per giocare Per far partire semplicemente i giocatori Ecco, già da qui ho detto Eccola Ci saranno 64 pagine In cui verrà spiegato Il gioco in una maniera abbastanza Semplificata Dove Ovviamente Non ci saranno gli inghippi Più importanti Con la risoluzione degli effetti Magari le catene Forse verranno spiegate In tot modo E quindi Questa potrebbe essere la cosa Che un po' più Mi fa venire Dubbi In realtà Appunto Come ho detto prima Sono dubbi Che ci stanno E non ci stanno Anche perché questo qui È un set per iniziare a giocare Quindi È normale Che ci siano regolamenti Un po' standard Un po' più facilitati Però quello che penso È che i Yugi Oltre ad avere ovviamente Questo qua Che va benissimo Finalmente avere uno starter È perfetto Io sono il primo fautore Di questa iniziativa Sono il primo Che L'ha proposta E l'ha promossa E l'ha proposta Ancora prima Che Venisse fuori Perfetto Il fatto Che venga spiegato Il regolamento Molto semplificato Però Il dubbio è Vi prego Mettete anche Il regolamento Un po' più complicato Magari Il costo Quando si risolve Un effetto Il fatto Che se c'ha Magari Gli effetti Negati Sul terreno E va al cimitero Quando tocca Il cimitero Magari L'effetto Parte Queste cose Qui Che sono Le cose Più complicate Anche perché Lo so È molto difficile Spiegare queste cose In Scritte su Un pezzo Di carta Perché Fondamentalmente Sono magari Tutte cose Che uno Apprende Giocando Molto spesso Ci sono Dei ruling Che uno Apprende Esclusivamente Giocando E quelli Ok Vanno anche In base All'archetipo E tante Altre cose Però Già avere Queste Nozioni Per me Potrebbe Essere Una cosa Abbastanza Buona Quindi Spero Che ci Possano Essere Perché Ripeto Da quanto Ho visto Qui Qua Spiegano La battaglia Ok Tutto Molto Facile Soldato Di Pietra Che non Si Gioca Da Vent' Anni Letteralmente Vent' Anni Bello Bello Sì Sì Poi Magari Come Gli esercizi Di Matematica Che ti fanno L'esempio Che andava Tutto Bene Tutto Facile Esercizi Non ci Capivi Niente Perché Era Completamente Diverso Ecco Questo Potrebbe Essere Il Paragone Perfetto Per Quello Che Può Essere Non parte Se c'è scritto Che si entra E no Perché c'era Quella Risoluzione Ecco Questo Questo Può Essere Un problema Quindi Magari Oltre Al regolamento Semplicistico Qualcosina In più Per Addentrarsi Contatto In questo Gioco Potrebbe Essere La cosa Giusta Comunque Ripeto Per quanto riguarda Le carte Dentro Da prendere Assolutamente Solo Per Zeus Detto questo Ragazzi Fatemi Sapere Cosa La pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo Video E un saluto A tutti